Siamo una squadra fortissimi E se finiamo nel balatro La colpa è solo dell'antidro Siamo una squadra fortissimi Fa tanti gente fantastici E non budimo perdere E fa più remerde Perché noi siamo bravissimi E superpagadissimi E se finiamo nel balatro La colpa è solo dell'antidro Buonasera e benvenuti a Da tutto campo Dunque questa è la canzone di Checco Zalone Che abbiamo voluto dedicare al Pescara E a questa vittoria importantissima Sul Tardini, sul campo di Parma Quindi sul Tardini Seconda vittoria in trasferta per il Pescara Un Pescara non bellissimo Ma molto concreto ed efficace Ora sono tre le vittorie Quattro i pareggi E due le sconfitte Questa è la situazione che commenteremo Con i nostri ospiti Intanzitutto Walter Nerone e Luigi Mascia Buonasera Buonasera Allora, Walter Direi una vittoria importante Soprattutto per il morale In questo momento Io direi anche per la classifica Perché sarà anche corta Però se stai avanti È sempre meglio che se stai dietro Secondo me E sì, una vittoria importante Che conferma una vecchia regola del calcio Che è vero che 5-4 piace a tutti Però se siccome per vincere Devi fare un gol più dell'avversario Se ne subisci zero Riesci a vincere anche col minimo sforzo E sto pescare Molto poco zemaniano Diciamo che Ha questa caratteristica anomala Finché dura va pure bene Ci ha concesso il bis Quindi comincia a essere Non tanto un'anomalia Perché dopo Carpi Parma Quasi allo stesso modo Secondo me giocando un po' meglio E intanto Intanto magari Zeman Lavora per regalarci pure qualcosa Diciamo di quello che l'ha reso famoso Se nel frattempo Vigiamo altre tre partite per 1-0 Secondo me non lo denuncia nessuno Zeman Certo Allora Luigi Una difesa A dir poco Quasi impeccabile Non era iniziato bene il campionato Da questo punto di vista Invece adesso È un Pescara sicuramente più equilibrato Sorrido perché Siamo ritornati Agli stessi temi Che avevamo affrontato Dopo la vittoria A Carpi Però poi dopo È seguita la partita Col Cittadella E dopo la partita Col Cittadella Avevamo detto Ricordo la soddisfazione Di Valtere Le stesse considerazioni Non fa mica male Vincere 1-0 E non prendere gol Però questo L'aveva detto Dopo la vittoria di Carpi Poi però È seguita la partita Col Cittadella Dove invece Si sono visti Tutti i limiti Di questo Pescara Il lunedì dopo E il giovedì dopo Abbiamo detto E insomma Probabilmente C'è una sindrome Non una malattia Ma una sindrome C'è Perché Che questa squadra Si è allenata Da Zeman Lo leggiamo Sulle Sulle formazioni E sappiamo tutti Che è allenata Da Zeman Vediamo Zeman In panchina Ma sinceramente Questa squadra Di Zeman Ha molto poco Lo dico perché Mi preoccupo Perché poi dopo E avremo modo Di parlare in trasmissione Segue la partita Con l'Avellino Allora questo Pescara Con questo modulo E con questa formula Non con questo modulo Con questa formula Con questa anomalia Con questo stravagante Con questo stravagante assetto Che devo dire Genera comunque Dei risultati positivi Fuori casa E poi da 57 giorni Non vince in casa Perché poi La coperta è corta Come sovente capita E quindi Riesci a coprirti La testa Fuori casa Ma poi ti scopri I piedi In casa Ovviamente Questo Non vuol dire Che debba ripetersi Il tracollo Della partita Col Cittadella Ma vuol dire Invece Che questa è una squadra Ancora tutta da leggere Ancora tutta da comprendere E io sono convinto Che Zeman Non sia affatto Soddisfatto Dei temi tattici Di questa squadra Così come vengono mostrati E che sono temi tattici Molto diversi Dal suo credo calcistico Però avremo modo Di parlarne E di approfondire L'argomento Tra l'altro Il Pescara adesso Affronterà tre partite In casa Nei prossimi 15 giorni Intervallata Da una partita In trasferta Dunque un calendario Sulla carta Sicuramente positivo Gli altri ospiti Della serata Do il benvenuto È già stata Con noi A Bruna Romano Fattore Buonasera Buonasera Bruna Stasera hai una sorpresa Per noi Non la svegliamo Non la svegliamo Però ecco Dici qualcosa Su La tua impressione Su questo inizio Il campionato del Pescara E su questa squadra Che dicono tutti È poco Zemaniana Sì Secondo Il mio modesto avviso All'inizio Non è che sia stata La squadra di Zeman Però io ho fiducia Nei giovani Per cui penso Che ne uscirà fuori Veramente Abbastanza forte E ha delle potenzialità Da poter ripagare Le negatività Che magari abbiamo visto Fino ad oggi Sono fiduciosa Staremo a vedere Torna con noi Anche Gianluca Colonnello Buonasera Gianluca Allora Gianluca Un Pescara che ha registrato La difesa L'attacco è diventato Molto cinico Segna poco In queste ultime partite Ma segna il momento giusto Il centrocampo Gioca sicuramente meglio Sta migliorando Secondo te la squadra O preferivi quella D'inizio stagione Delle primissime partite No ma È difficile giudicare ora Ci sono degli atti De basi Da parte di tutte le squadre La costante Di questo inizio campionato È rappresentata soprattutto Dagli errori difensivi Perché molte volte In molti Siamo ipercritici Con il Pescara Però Bisogna Guardare anche Le altre squadre Come il Frosinone Che Danno tutti Davano tutti Come ammazzo campionato Però Ha delle grosse difficoltà Anche a livello difensivo C'è Uno Stran equilibrio Però Verso il basso Perché Come ho detto prima La costante È rappresentata dagli errori Ogni domenica Si registrano Degli errori Da parte di difensori E quindi A oggi È una stranezza Però Secondo Il mio punto di vista Bisogna aspettare La quattordicesima Quindicesima giornata Per quanto riguarda Il Pescara Le prossime tre partite In casa Diranno molto Perché dopo la tredicesima La quattordicesima Partita di solito Si cominciano A staccare Le squadre Di alta classifica Le prime 4-5 Dal resto Delle squadre Che dovranno Lottare O per la Salvezza Oppure per Disputare un buon Campionato Riguardo al Pescara È ancora Secondo me In fase di costruzione Perché quando Ci sono dei risultati Così altalenanti Fuori casa In casa Questo è un È un sintomo Di Di costruzione Dobbiamo aspettare Un pochino Perché ci sono state Delle defezioni Nelle scorse partite Ora Mancus è rientrato E secondo me Uno dei giocatori Che alla fine Vedremo Rappresenterà Qualcosa di importante Per il Pescara Un punto fermo Però bisogna trovare La strada Della continuità Questo ha bisogno Di tempo Perfetto Con noi Questa sera Anche Vincenzo Minguzzi Buonasera Vincenzo Buonasera Allora Vincenzo L'ultima volta Che sei stato qui Abbiamo parlato Della posizione Di Pigliacelli Pigliacelli Titolare Ci siamo chiesti Come mai Un portiere Come Fiorillo Potesse Non solo accettare Perché Un professionista Serio Ma potesse Essere in panchina In una squadra Di Serie B Come il Pescara Adesso è venuto Il momento Di Fiorillo Come hai visto Questo avvicendamento Beh L'avevamo detto C'era questa possibilità Fiorillo Ha dimostrato Ha dimostrato in passato Di poter essere All'altezza Di questa squadra Ci ha vinto Un campionato Quindi Servivo l'occasione Per rientrare E magari Riprendersi il posto Probabilmente Pigliacelli Mi sembra un giocatore Un pochino più reattivo Un pochino più Estrose Forse all'inizio Si è fatto trovare Un pochino più pronto E magari Zema L'ha fatto Quel tipo di scelta Adesso Non conosco I motivi Per cui Domenica Ha cambiato Perché Pigliacelli Non l'aveva Demeritato Ma comunque Credo che Domenica Abbia fatto Il suo dovere Anche Fiorillo Bene Sigla Sono seduto Sopra una panchina Qui fermo Ad aspettare E c'è un pallone Sta viaggiando Su un prato E quando arriva Mi farà sudare Ma dimmi Quando arrivi Arriverai Son così teso Questa palla Non arriva mai Chissà che faccia Che farai Così felice Spalordito Non t'ho vista mai A tutto campo Arriverà E un talk show Che tu pescara Qui si parlerà Chissà che faccia Che farai Quando la vedi Alla televisione Rimarre senza parole Che in casa Seguici Di nuovo in diretta Dagli studi di Rete 8 Per a tutto campo Allora messaggi Tramite Whatsapp Al 388 1 2 4 4 6 8 8 Bene Allora a questo punto Vorrei iniziare Con qualcosa di simpatico Bruna Cosa hai preparato? Allora non è una poesia La vera e propria È una satira Però tengo a precisare Non è una satira Che faccia male O che sia ironica O sferzante È una satira Una satira Scherzosa Però per poterla comprendere Bisogna conoscere Non direttamente i giocatori Ma perlomeno I nomi dei giocatori Io una notte Non riuscivo a dormire E mi sono cimentata A scrivere Questa satira Scherzosa Con la speranza Che possa piacere Allora adesso La leggerai E poi la commenteremo Insomma Vedremo Prego I giocatori attuali Sono i giocatori attuali Però bisogna conoscere Il dialetto abruzzese Eh sì certo Eh sì Perché è invernacolo Ed è anche Prego Che bella compagnia Che bella giornata Ha scelto Un bello poco del sole Carluce le palazze E fa spuppare Le fiori La luciardina All'aperta campagnare Antonina Brucman La hierva E per paura Di piare Mazzotta Dice Alla compagna Pigliacelle Che la noce di cocco Spacca E beve Tutto L'olat Lata Così ti fa crescere Le capelluzze La coccia E ti può pittinare meglio Dopo Tira la coda Alla bova Ma sta attenta Perché ti può dare Una zampana Che ti fa balzare Dalla terra Alla cielo Intanto Si avvicina Natale E lo capone Sta in crescenza Appena è pronto Li mettiamo Alla fornassiera Perché sta proprio bene Lì Si fa rosti buono Come la tradizione Ciprietta All'occasione Ci facevamo Mancosì niente In che la benedizione Di Sebastiana Ci assettiamo Attorno a un grosso carriere In che Canutene Valzani E li zalti Per rotte Sei l'asco La belia E benz E che un bel bicchiere Di venire Lo scemmano E diceva Che bella compagnia Avemo creato Insieme Bravo 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 Complimenti A Bruna Grazie È un momento sicuramente Bello per il Pescara È ancora più bello Citare questi giocatori Walter L'affetto Del club Donne bianca Azzurra Delle sportive Insomma Di tutti i tifosi Intorno al Pescara Ancora una volta Si fa sentire Ma questo è anche un po' Un segnale No? Un segnale Intorno a una squadra Quando si crea Anche il fatto Di pensare Di fare qualcosa del genere È perché Il clima Nonostante tutto È positivo In un contesto Diciamo Pessimista Un po' avvelenato Da polemiche Soprattutto di scarsa fiducia Magari non viene neanche l'idea Di fare qualcosa del genere O se viene l'idea Si pensa Che non verrà accettata Secondo me Invece Questo Queste Che abbiamo le idee O iniziative Sono veramente Il sale del calcio Quello vissuto Quello che fa ambiente Quello che crea Che crea Come l'entusiasmo Che alimenta l'entusiasmo Di queste cose Di queste piccole Grandi iniziative Diciamo Create Intorno al Al contesto squadra A prescindere dal risultato Secondo me Ce ne vorrebbe Non dico una settimana Ma Una ogni tanto Le donne bianco-azzurre Sono sempre state un po' speciali Sono sempre state speciali La bella La bella E' un modo diverso E gradevole Di sostenere il calcio Parentesi che magari C'entra poco per quello Però Sennò Sarebbe Inaccettabile Di vendicare Un abbraccio Forte al dottore Ernesto Sabatini Che tanto Sappiamo Che lui Questa partita La vince facile Tornerà Presto in campo anche lui. Veramente un abbraccio Ernesto perché anche lui fa parte della famiglia del Pescara e quindi non sta molto bene, ma lo vedremo prestissimo. Luigi, un Pescara che quindi a questo punto sta, non dico migliorando, ma almeno nei risultati e nella classifica, quando può migliorare ancora la squadra? Intanto un in bocca al lupo al dottor Sabatini e i complimenti alla nostra Bruna perché non è facile coniugare la creatività poetica perché lei poi ha scritto libri e ha scritto poesie, quindi non è nuova, a queste cose, anche a dei nomi particolari della formazione e sono stati tutti adattati a questa simpatica poesia e davvero la notte porta consiglio perché se la scritta di notte, forse di giorno non si riuscirebbe ad avere la lucidità per scrivere una cosa così simpatica e così carina. Dove può arrivare il Pescara? Io l'ho detto nelle scorse settimane, quando vedevo ancora il Pescara di Zeeman e pensavo che Pescara fosse al 30%, 40% rispetto alle sue potenzialità. Adesso, al di là delle battute del confronto sulla vera natura e la vera pelle di questa squadra, ha ragione chi dice che ha fiducia nei giovani, questi sono ragazzi che hanno dei margini di crescita enormi, però il tema tattico non può essere sottovalutato. Sono convinto che Zeeman stia ancora cercando la vera identità di questa squadra, non solo dal punto di vista di quello che è il suo credo calcistico, ma anche dal punto di vista della formazione. Per esempio a Parma è ritornato in campo un giocatore come Palazzi che ha dimostrato di avere stoffa, di avere qualità, di avere capacità e potrebbe essere uno dei punti fermi della formazione di Zeeman. Non ci dimentichiamo che Zeeman da una parte è un allenatore che ha sempre avuto la tendenza a gestire un gruppo ristretto di giocatori e impiegare un gruppo ristretto di giocatori. Dall'altra c'è anche il problema di avere a disposizione, problema tra virgolette, perché magari per molti altri allenatori non sarebbe un problema, di avere una rosa molto molto ampia. Se pensiamo addirittura che questa settimana si è aggregato al gruppo anche un certo Cocco che fino a tre anni fa era il capotannoniere della Serie B e che comunque nell'organico del Pescara lo sarà perlomeno fino a gennaio, a meno che poi abbia qualche chance e qualche possibilità di dimostrare di essere tornato alla grande. Questo dimostra che Zeeman ancora oggi con l'impiego sporadico di Gans, con un centrocampo che non ha ancora una sua definitività, almeno non solo nei temi tattici, ma anche nei giocatori impiegati, è ancora un cantiere aperto. È vero che bisogna aspettare 14 o 15 giornate per capire l'esatta dimensione, l'esatto valore di una squadra e l'esatta collocazione nella graduatoria di un campionato particolare come la Serie B, ma dall'altra è anche vero che oggi a 8-9 giornate dall'inizio del campionato, dal mio punto di vista Zeeman ancora non ha un'idea ben precisa e definita di questo Pescara. Se a questo si aggiunge che il modo di giocare del Pescara è un modo di giocare distante dall'idea che Zeeman ha del calcio, avremo molti spunti di riflessione. Io mi auguro positivi e mi auguro con un crescendo del Pescara, non solo dal punto di vista dei risultati, ma dal punto di vista anche della capacità di convincere i propri tifosi di cui noi siamo parte integrante. Però c'è ancora un percorso da fare. Queste cose le diranno probabilmente anche in altre piazze, perché credo che anche a Palermo fino adesso non sono troppo convinti del lavoro di Tedino, che ne dica il Presidente che eloggia Tedino ogni volta, ma anche Perugia che era partito a sprombattuto. Forse in questo momento chi se la passa bene è Vivarini dell'Empoli, il quale però ha degli appuntamenti anche importanti. Il risultato di tutto quello che sto dicendo è quella classifica così particolare in cui eccezione fatta per i Cesena di Castori, tutti gli altri sono lì, sono lì a giocarsi la promozione o comunque le piazze importanti del campionato di Serie B, ma dall'altra parte con due sconfitte si corre il rischio di trovarsi invece nei quartieri più bassi. Allora, la stessa domanda a Minguzzi e Colonnello. Ecco, secondo voi è Zeman che si sta adattando ad un gioco diverso e come mai lo fa, visto che non l'aveva mai fatto, oppure sono proprio una questione di necessità. Ma non necessità. Zeman indubbiamente ha cambiato il gioco, insomma non gioca nello stesso modo. Non è che ha cambiato, i movimenti sono quelli, il sistema di gioco è quello, dipende molto dagli interpreti e dipende anche da come si trovano i giocatori. perché per applicare questo sistema di gioco devi lavorare, 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 devi trovare tutti i meccanismi, i movimenti, deve essere tutto sincronizzato perché molte volte il mister si è lamentato perché in molte partite non si attaccava allo spazio, quindi c'erano delle difficoltà, però rientra tutto nella normalità perché non bisogna dimenticare che il Pescara è partito in ritiro con tantissimi giocatori e quindi questo cambia molto la dinamica del lavoro. Non è semplice gestire il tutto, poi ci sono subentrati degli infortuni soprattutto da parte di Bovo, da parte di Mancuso e altri ragazzi, quindi per riprendere il passo tutto ha necessità tempo e quindi il lavoro spesso e volentieri è stato interrotto, molti non fanno caso a questo, però è molto importante. Poi come ho detto prima siamo all'inizio perché ci sono squadre come il Palermo, come il Frosinone, c'hanno delle squadre da categoria, sono state costruite per tornare in Serie A, il Pescara per me non ha nulla di meno di queste squadre, secondo me se il Pescara imbocca la strada giusta e cominciano ad arrivare i risultati e ripeto nelle prossime 3-4 partite sperando che tutto va come deve andare, quando comincia ad incanalare i risultati e a vincere la vittoria porta sicurezza, ti dà l'opportunità di lavorare meglio e volte e volte anche da parte dei giocatori di rischiare di più, riesci a fare dei movimenti come vuole l'allenatore la salita dalle difese in maniera più rapida, rischi un dribbling, vai ad attaccare senza pensare a una chiusura, quindi sei più libero mentalmente quando riesci a vincere le partite, quindi bisogna, come ho detto prima, bisogna aspettare e soprattutto bisogna mantenere la calma. Vincenzo sei d'accordo, è solo di tempo? Sono d'accordo, è solo di tempo, sicuramente Zema sta cercando di fare il suo calcio, su questo non c'è dubbio, non credo che si stia adattando alla situazione, intanto vincere anche magari giocando così così ti aiuta sicuramente a lavorare meglio durante le settimane e a crescere. Questa è una squadra molto giovane che partecipa ad un campionato mediocre, le prime, quelle che sono partite forti in realtà hanno frenato tutte, vedi Frosinone e vedi il Perugia, stanno aspettando squadre importanti come il Bari che è una rosa piena di grandissimi giocatori che però fino ad adesso ha fatto fatica, ma davanti non vanno, per cui anche il Bari che fa il risultato soltanto in casa è ancora lì in corsa, io credo che il Bari sarà una di quelle che nel giro di ritorno diventerà una delle squadre forti di questo campionato. Per quello che riguarda il discorso del Pescara può essere competitivo perché ha dei giovani di valore, però con le squadre così giovani la discontinuità ci sta, si lavorerà per migliorare, ma si può essere discontinui, bisogna trovare la quadra, fuori casa stanno facendo risultati in maniera anche un po' particolare rispetto al gioco di Zeeman, in casa stanno facendo un pochino più fatica, vediamo come dice Gianluca le prossime tre partite, tre gare in casa saranno un bel segnale che si può dare a questo campionato. Perfetto, allora pubblicità, torneremo tra pochissimo in diretta. Bene, torniamo in diretta per a tutto campo, allora abbiamo iniziato a commentare questo inizio stagione del Pescara, le ultime prestazioni soprattutto fuori casa, ma come commentare meglio se non con il presidente del Pescara Daniele Sebastiani. Buonasera Daniele. Buonasera, buonasera a voi. Allora, dicevamo prima, un po' tutti concordi, Pescara forse meno bello di quello che ci aspettavamo, ma Pescara molto concreto ed efficace, sei d'accordo per quanto riguarda questa prima fase del torneo? Beh, diciamo che abbiamo avuto due fasi, una all'inizio un po' più sbarazzini e poi magari nelle partite successive magari i ragazzi hanno pagato un po' più al concreto e sappiamo che il mister vorrebbe una squadra più votata all'attacco, vorrebbe sempre fare un gol in più degli altri perché questo è il suo credo nel calcio, però è chiaro che i risultati poi aiutano anche a lavorare meglio e aiutano anche a far crescere l'autostima, visto che si tratta di una squadra giovane e molti di questi giocatori non hanno mai fatto un campionato di rugby, per cui anche i risultati, anche se dovessero arrivare senza passare per quel gioco sicuramente in questo momento ci aiutano. E una Pescara creato e pensato per fare il meglio possibile o comunque l'obiettivo è il raggiungimento dei play-off come minimo? Ma noi non ce lo poniamo l'obiettivo, noi pensiamo di aver fatto una buona squadra che può stare via a lottare con le altre, abbiamo ancora qualche giocatore fuori, è importante, abbiamo tanti giocatori importanti in questa rosa, abbiamo tanti giocatori di grande prospettiva, quindi a nostro avviso è una squadra che può dire la sua in questo campionato, poi da qui a qualche mese vedremo se abbiamo fatto bene o magari c'è qualcosa da rivedere, però è una squadra che secondo me se la può giocare con le prime 7-8 figuramente. Walter Nerone, una domanda al Presidente. Ciao, buonasera Presidente, ti faccio una domanda buona e una cattiva, poi scegli tu qual è la buona. La prima è che siamo a un quarto di campionato, ci siamo fatti un'idea della rosa, delle papabili, delle avversarie un pochettino quelle più solide, quelle più ambiziose o comunque delle sorprese. La seconda, che è quella buona, giovedì scorso qui abbiamo avuto un tuo amico al quale i tifosi hanno prestato molta attenzione, sai a chi mi riferisco Antonio Oliveri? Sì, sì. Ovviamente anche su quel lato vorremmo avere qualche informazione in più. Intanto cominciamo dalla prima, che mi aspettavo essere più cattivo invece comunque è una domanda normale, quindi tra le squadre ci siamo fatti un'idea, sicuramente ci sono 7-8 squadre che sono attrezzate, perché Frosinone, Palermo, Empoli, Bari, Perugia, forse mi dimentico di qualcun'altra, ma sono squadre comunque, la stessa Avellino che incontriamo sabato, sono squadre attrezzate con organici importanti che si giocheranno, si vorranno giocare il campionato. È evidente che in questo momento magari quest'anno non c'è ancora la sorpresa che ogni anno esce fuori in Serie B, anche se per esempio il Venezia che non è partita con i favori del pronostico è lì a 14 punti, quindi potrebbe essere tra virgolette la sorpresa, ma a noi domenica e sabato scorso abbiamo incontrato il Parma, che è un altro grande organico che sta soffrendo un pochettino, quindi ci sono tante squadre che in questo campionato potranno giocare la vittoria finale o una vittoria attraverso i play-off, ecco perché prima dicevo il Pescara sicuramente in queste 8-9 squadre si può stare dentro a giocarsela, poi ripeto, poi magari fra qualche mese ci accorgeremo che le favorite qualcuno perde il passo oppure qualche squadra che non abbiamo messo in questo elenco viene fuori e diventa la sorpresa come ogni anno della Serie B. Per la seconda domanda tu sai bene come la penso che non mi abita diversi, lui quando vorrà la porta per lui è sempre aperta, non c'è nessun problema, siamo grandi amici e lo sapete tutti, quindi non dipende sicuramente da me, non posso io forzare la mano con nessuno, non devo forzare la mano con nessuno, però siccome questa è una società aperta a tutti quelli che vogliono il bene del Pescara, sicuramente non ci sono gelosie, non ci sono preclusioni per nessuno di quelli che vogliono dare una mano a Pescara per diventare più forte. Luigi Mascia voleva farti una domanda. Ciao Presidente, oggi ho visto una conferenza stampa in cui ti sei, hai fatto un'operazione, una bella operazione per l'immagine della città perché il trofeo Matteotti è arrivato alla settantunesima edizione, pelle, carne e sangue della città di Pescara perché rientra nelle maggiori e migliori tradizioni pescaresi. Ti chiedo, facendo una battuta, poi c'è anche l'altro aspetto sulla realizzazione del nuovo stadio, che non è soltanto la realizzazione del nuovo stadio, ma è un'idea di sistemazione anche di un'intera parte della città. A parte il rischio che tu ti possa candidare sindaco, faccio una battuta, sono queste anche operazioni simpatia per recuperare quella parte della città che so che ti fa soffrire, ancora oggi magari non ti risparmia qualche offesa o comunque qualche disapprovazione, oppure tu vai avanti per la tua strada con convinzione sulle cose che devi fare, senza guardare invece a questo aspetto. Io penso che invece tu guardi anche a questo aspetto. No Luigi, io sinceramente gli operazioni simpatia non sono abituati a farne perché a mio avviso uno deve essere apprezzato per quello che fa, per quello che dà e non perché passano il termine debba fare delle marchette per essere apprezzato. Per quanto riguarda il Matteotti secondo me era giusto e doveroso anche perché comunque sono nell'organizzazione oramai da 15 anni come vicepresidente e siccome Renato aveva deciso di smettere, per me da pescarese da passare di ciclismo è impensabile che una classica come il Matteotti possa sparire. Stamattina Renato Ricci ha detto una bella cosa, il Matteotti non si vende e non si compra. Matteotti è una manifestazione della città, ho portato insieme a me delle persone che sicuramente mi daranno una mano per cercare di arrivare a trovare un budget sostenibile per fare una corsa di grande livello come il Matteotti merita. Abbiamo spostato la data il 23 settembre, il 23 settembre è una premondiale a tutti gli effetti perché la settimana successiva si corre il mondiale e quindi abbiamo una ragionevole certezza che quasi tutti i big verranno a correre il Matteotti anche perché vorranno preparare al meglio il mondiale e quindi sulle strade pescaresi e diciamo della grande pescarada che adesso va di moda, si troveranno tutti i più grandi protagonisti del Matteotti e sicuramente tornerà adesso una corsa importante come è sempre stata. Poi per quanto riguarda l'ultima preoccupazione tua, non ti preoccupare perché il sindaco non lo farò mai. Allora c'è anche Bruna che voleva dirti qualcosa, Bruna. Presidente buonasera. Ciao Bruna. Salve, io mi soffermo a quello che ha detto il collega Nerone prima della sua seconda domanda e questo mi fa piacere che lei ancora una volta ha tolto diciamo di mezzo quell'idea che alcuni dicono che lei possa essere il pater familias oppure volgarmente il padre Padone. Invece ha ancora una volta delucidato che la porta della società è sempre aperta. Certo, lei non forza nessuno, ci deve essere la buona volontà degli operatori economici che vogliono entrare nella pescara a calcio. Grazie. Grazie a te Bruna, ma è un ribadire quello che ho sempre detto. Al di là di entrare, se dovesse esserci qualcuno disponibile pure a subentrare completamente, nessuno si metterebbe i bastoni tra le ruote. Chiaramente oggi il pescara è una società che è uscita fuori veramente con grande fatica dalle sabbie mobili e quindi è giusto che chi arrivi almeno, perlomeno valuti questa cosa qui. Però al di là di questo, ripeto, stavamo parlando di una persona che è cara a tutti i tifosi del pescara, che è un amico e quindi per lui nel modo più assoluto le porte saranno sempre aperte. Senti Daniele, volevo farti una domanda che è un po' dal calcio e ci rientra nello stesso tempo. Ti sei mai chiesto perché Daniele Sebastiani, un po' come tutti i dirigenti, ma in modo particolare, è o molto amato o molto odiato? Ma io penso che nel calcio questo succeda un po' a tutti, no? Purtroppo ci sono piazze e presidenti ben più importanti di me che non possono nemmeno andare allo stadio a vedere la partita in questo momento. Secondo me è un fatto culturale tutto italiano che chiaramente esiste e speriamo che in qualche modo migliorerà nel futuro per chi verrà nel calcio, perché questo è anche uno dei motivi per i quali molti imprenditori importanti non si avvicinano a questo mondo, perché non si può pensare di passare dall'essere un fenomeno all'essere un deficiente nell'arco di due partite. Siccome questo nel calcio in Italia succede, molti imprenditori importanti che potrebbero fare sicuramente il bene del calcio in generale preferiscono entrarci e stare da parte. Noi siamo entrati, voi sapete tutti la storia nostra a Toscara, siamo entrati in un momento di difficoltà, io per fatto sono entrato come, non dico l'ultima ruota del carro, ma quasi, poi mi sono trovato il problema sulle spalle quasi da solo, quindi oggi se devo pensare di essere amato e di essere odiato, io penso di andare avanti per la mia strada, perché sono convinto che in questi anni il Pescara, tutti insieme, da chi c'era prima a chi è rimasto adesso, abbia fatto un grandissimo lavoro considerando le possibilità e considerando il fatto che non siamo, come dico sempre io, dei grandi industriali, ma siamo delle persone sicuramente per bene e gente che lavora dalla mattina alla sera e che quindi è riuscito a fare molto di più di quello che normalmente le persone con queste caratteristiche possono fare. Pescara oggi è una società sana, non so che non ha nessun problema, questo era il mio obiettivo dall'inizio, se poi per arrivare all'obiettivo abbiamo anche fatto un paio di promozioni, abbiamo fatto anche un paio di cambiamenti di Serie A, sicuramente non abbiamo fatto di grandissimi cambiamenti di Serie A, questo è un dato di fatto, però è anche vero che come amo dire io la guerra con le fionze non si può fare e quindi d'altronde anche società che sono ben più importanti del Pescara in Serie A dal punto di vista economico più che come piazza, mi riferisco per esempio al Benevento di quest'anno che è di proprietà di un imprenditore importante che ha speso milioni di Euro solamente sul mercato, sono 9 partiti ufficiali che fa, ha raccolto 0 punti, questo sta a dimostrare quanto sia difficile competere in un campionato dove le differenze economiche sono notevoli, pertanto noi come abbiamo sempre fatto ripartiamo e ripartiamo con l'entusiasmo, con la voglia di fare bene e poi il tempo dirà. Se non ci sono altre domande da parte dello studio, io volevo farti un'ultima domanda, il Pescara ora affronterà tre partite in casa e una fuori nei prossimi 15 giorni, cosa ti aspetti da queste due prossime settimane? Il salto di qualità? Mi aspetto che la squadra dia continuità a quello che abbiamo fatto fino adesso, che diventamente si impretta il brutto passo falso che abbiamo fatto in casa con il Cittadella e che riparta dalla partita di Parma con la stessa mentalità, la stessa voglia di fare bene, di ottenere il risultato perché poi alla fine io penso che i risultati siano sempre poi la giusta medicina per migliorarsi, perché è più facile lavorare durante la settimana quando hai vinto il sabato e non farlo magari quando vieni da sconfitto o hai il morale a terra. Soprattutto, ripeto, per una squadra giovane che ha immediatamente in campo 4-5 giocatori esordienti nella categoria, siamo in assoluto penso la squadra più giovane del campionato e quindi i risultati sicuramente sono la medicina migliore per far crescere l'autostima di questi ragazzi. Grazie al Presidente Daniele Sebastiani. Grazie a voi, buona serata. Buona serata a te. Dunque mi sembra molto schietto, anche per quanto riguarda la domanda che hai fatto su Oliveri, è aperto a tutte le soluzioni. Poi è chiaro che le trattative sono sempre difficili, perché al di là delle intenzioni poi ci sono tante cose da verificare. Sì, però io resto dell'idea che Sebastiani venderà il giorno che decide di vendere, non perché qualcuno glielo chiede. Dopodiché è anche vero che al netto delle buone intenzioni e anche delle referenze ottime che ha Oliveri, sulla cui affidabilità nessuno ha dubbi, questa città non ha espresso mai nella storia, grandi entusiasmi calcistici da parte della sua classe imprenditoriale più importante. Ovviamente è anche questo legittimo, non sta scritto da nessuna parte che se uno è un grosso imprenditore si deve occupare di calcio. Però ecco, siccome poi dopo il calcio prende tutti, è un dato di fatto che ci ritroviamo sempre a fare i stessi discorsi. Il calcio interessa tutti, interessa anche la parte economicamente più importante della città, interessa anche molta gente che sullo sport in generale, sul calcio in particolare, diciamo, fa leva per i propri interessi legittimi, però non vuole rischiare più del necessario, in molti casi non rischi affatto. Io per cultura amo parlare di quello che c'è e non di quello che ci potrebbe essere, almeno in questo campo, in altri campi se ne può parlare. Quindi, finché non c'è uno alternativo a Sebastiano, con la stessa credibilità, io non accetto manco i discorsi per dire, Sebastiano se deve andare, dove? E perché? Non mi piace il suo calcio, vattene a guardare un altro. Bene, allora a questo punto sono tanti i messaggi che sono arrivati, così mi dice Tatiana dalla redazione, dunque vediamo i primi. Ecco, li stanno arrivando. Buonasera, sono Aldo Tirinnanzi, vado un po' controcorrente, ma non è che a questo Pescara manca una punta di livello? Cosa ne pensa l'ottimo Luigi? Brevissima questa... Non l'aveva fatta a me, forse l'aveva fatta a te, però in effetti Aldo, un attento osservatore, io non credo che manchi una punta di livello, anche perché a questi livelli, scusate il gioco di parole, di calcio in Serie B, quindi a livelli importanti, le partite non le vinci solo con gli attaccanti. Sì, è vero che ci sono squadre molto ben attrezzate, anche con vecchi marpioni della categoria, vanno in giro ancora i Caracciolo, vanno in giro i Granocce, Ardemagni, Caputo che è un attaccante forte che fa la differenza, però fino alle prime giornate sembrava che Pettinari fosse il nuovo fenomeno di questo campionato e che il Pescara avesse problemi ovunque tranne che nel settore d'attacco. E per rispondere ad Aldo, io penso che il Pescara sia ben attrezzato nella fase d'attacco, sia come uomini, come anche schemi di gioco che dovrebbero comunque esaltare e valorizzare gli attaccanti del Pescara. Sta capitando che quegli schemi di gioco nelle ultime settimane invece siano modificati e gli attaccanti abbiano meno opportunità. Io penso che questa domanda sia figlia della sua preoccupazione per il fatto che il Pescara, è vero che magari vince qualche partita fuori casa, ma segna quel contagoccio. Vediamo altri messaggi? Andiamo avanti perché sono tante le curiosità di coloro che ci seguono da casa. Allora questo è molto lungo. Un saluto a tutto lo studio da Antonella. Qualche mia considerazione sulla squadra scesa in campo sabato che ho visto più equilibrata che in altre occasioni. Decisamente meglio disposta, più bassa in difesa perché siamo più efficaci anche se mi piacerebbe vedere marcature più strette. Mi dispiace molto per Coulibaly in panchina e Canutè che sbaglia ancora troppi appoggi ma al momento preferisco il centrocampo così come dopo la sostituzione con Carraro. Meglio anche Zambano e Benebancuso che interpreta bene gli schemi di Zeman. Siete d'accordo dallo studio? Un grande in bocca al Pescara che speriamo approfitti anche dell'assenza di Migliorini squalificato. Insomma ha fatto un'analisi molto complessa Antonella che ringraziamo che ci segue sempre. Vincenzo, due parole per commentare questa considerazione se siete d'accordo. Ho fatto una buona considerazione. Adesso spero un po' troppo in Migliorini che è uno stopper. Insomma non è uno di quelli che fa la differenza però è un armadio. Affrontando una squadra molto fisica comunque il più grosso non c'è. Il più grosso non c'è, tanto meglio. Quindi magari gli attaccanti si risvegliano. Sono d'accordo con lei. Altri messaggi. Pensate anche voi che quattro primavera contemporaneamente siano un po' troppi? Sempre Forza Pescara, Remo Piazzante. Colonnello, velocemente. Non dipende, sono giovani, dipende da come giocano. Quindi secondo me non sono tanti. Secondo il mio punto di vista piano piano stanno crescendo tutti. Bene, ancora? Tutti allo stadio. Questo mi sembra giusto, è sempre bene ricordare che il Pescara ha bisogno del suo pubblico. Buonasera a tutti, vorrei chiedere in particolare da D'Albore Mascia cosa manca a questo Pescara per poter andare avanti serenamente in questo campionato e poter portare tante vittorie a casa. Grazie, Edoardo da Pescara. Se Luigi riesce a rispondere a questa domanda lo chiamiamo come allenatore il giorno dopo. Possiamo anche rispondere in maniera sintetica, manca un po' di Zeman questo Pescara. Andiamo avanti ancora con altri messaggi. Buonasera, Pigliacelli giocherà sempre con il gioco di Zeman anche se per la categoria Fiorillo è un lusso. Questo l'abbiamo detto, ora sta giocando Fiorillo, vedremo cosa deciderà Zeman. Complimenti alla signora Bruna, ingambissima e sempre bella. Antonio da Pescara. Ecco qua, si scoprono gli altarini. Il giusto tributo. Saluto il grande colonnello che ho conosciuto allo stadio, competente ed equilibrato. Io penso che il gioco di Zeman non esista, è una leggenda metropolitana. Siete un buon parterre. Buonasera, Alvaro. Intanto grazie per il parterre, ma poi sei d'accordo che il gioco di Zeman non esista a Gianluca? No, non è il fatto che il gioco di Zeman è una leggenda metropolitana. Non è in questione, è adotto un sistema di gioco e molte volte per il passato, per ciò che si è creato, ciò che si è creato attraverso tanti tanti gol fatti e tanti di tanti gol subiti, si può identificare un sistema di gioco appunto con il nome del mister. Però non è che… Quindi è più gioco di colonnello? Eh? Più gioco di colonnello che avvicina più all'idea di gioco di colonnello? No. Ti sto dando un assist, come la vedi, magari è più vicino alla tua idea di gioco rispetto a quella di Zeman. No. Io non le ho mai viste le tue squadre Gianluca, ti ho visto come giocatore. Sì, 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 ma bene o male l'idea è quella, l'idea è quella, però diciamo non sono un estremista. Allora, due messaggi velocemente e poi in linea la pubblicità, abbiamo una squadra molto giovane per cui bisogna avere presenza, forza mister, avanti tutta che verremo fuori alla grande, questo è un augurio perfetto. Buonasera, vorrei un commento sulla disdetta di Oddo Alcagliere al quale è stato preferito Lopez, complimenti per la trasmissione, sempre la numero uno, grazie, grazie a chi ci scrive, chi ci vuole commentare. Posso dire una cosa su questo? Volevo fare, tra le domande che potevano essere fatte a Sebastiani, ce n'era una che gli avrei fatto e cioè per, più che la disdetta e il mancato ingaggio di Oddo, se la cosa gli poteva far piacere, perché non è un mistero che Oddo sia nel libro Paga del Pescara e quindi credo che sia anche un onere per la società, o se dall'altra, e qui era la provocazione, e alla fine essendo un tesserato del Pescara vedi mai che magari era sempre utile averlo a disposizione e quindi l'avrei fatta la domanda a Sebastiani. E visto che non è andato a Cagliari, facciamo in tempo a fargli un'altra occasione. Eh certo, eh certo. Va bene, allora pubblicità, fra pochissimo di nuovo in diretta. Io l'ho preso l'opera. 22 e 30 minuti, torniamo in diretta dagli studi di Reteotto, allora qualche altro messaggio, visto che ne sono moltissimi, completamente d'accordo con Mascia, squadra base non ancora definita, Elizalde potrebbe trovare realmente spazio, salve da Remo. Ma non è che Gans farà la stessa fine di cocco, cioè la panchina? Beh, questo non lo so, speriamo di no ovviamente. Buonasera, mi auguro che prima o poi si esca dai luoghi comuni e parlo del provincialismo pescarese, le donne biancozzurre ci insegnano da anni la cosa. Zeman è apprezzato da anni e in mezzo a Europa. Non è possibile che non capisca che si possa giocare in diversi modi, poi tra tutti sceglierà il migliore per vincere e lanciare i giovani. Ritengo sia questa la strada, per le maglie dovremmo ancora, per le magie, scusate, dovremmo ancora attendere. Un saluto pari. Beh, in effetti le magie, insomma, non è facile farle. Chiedo al signor Nerone se Proietti è più adatto agli schemi di Canutè. Beh, dell'attuale sì, però Canutè forse sul piano fisico dà qualcosa in più, anche se secondo me questo centrocampo con Palazzi, che vi permetto di ricordare, aspettavo, l'ho citato più di una volta, con Palazzi migliora molto. Se Canutè cresce un po', o se Proietti ci aggiunge qualcosa, forse abbiamo trovato la quadra là in mezzo. Ecco, allora, non dimentichiamo che... Carraro non mi dispiace. È un ottimo giocatore. Carraro non mi dispiace. non si segna, o segna lui, o segna lui, e guarda caso, lì davanti io penso che Mancuso e Capone possano diventare la coppia di riferimento, però nelle azioni più belle del Pescario ci sta sempre Benali, sarà un caso anche questo, perché io resto sempre di quella idea Zemaniana, che i migliori il posto, per i migliori il posto si dovrebbe sempre trovare. Vedremo cosa accadrà con Benali. Allora, possiamo intanto vedere la classifica, perché l'incontro che vedrà il Pescara in campo allo stadio del Riatico sabato e con l'Avellino, quindi una squadra sicuramente molto forte, che ha rischiato di arrivare prima in classifica, addirittura poi è stata rimontata e ha perso la partita. Fra pochissimo andremo ad Avellino, anzi la regia mi dirà quando saremo in collegamento con Massimo I e Pariello. Intanto questa partita con l'Avellino non è una partita semplice, vorrei sentire i due ex del Pescara, Vincenzo. Io ho seguito con attenzione la partita in casa con il Cittadella, perché a Cittadella ho degli amici e ci sono ragazzi che sono stati con me da ragazzini veramente piccoli, tipo Benedetti, terzino-sinistro, Strizzolo, che li avevo a Pisa e mi incuriosiva molto. Loro hanno giocato quella partita con un 4-3-1-2, cioè giocando a rombo a centrocampo, con Schenetti che giocava dietro alle due punte, hanno fatto secondo me una grandissima partita. Poi anche il Cittadella la domenica dopo ha perso in casa con la Cremonese che giocavano al secondo tempo, ha giocato in 9 per larghi tratti. Per cui è un campionato ancora abbastanza strano, però per dire un po' che non succederà mai, però Benagli secondo me è un giocatore molto forte in questa categoria, un pochino penalizzato probabilmente dal fatto che Zema sugli esterni cerchi giocatori che cercano la profondità e che comunque non aspettano la palla sui piedi. Benagli è un trequartista, per sfruttarlo al massimo secondo me probabilmente il ruolo giusto potrebbe essere come ha giocato il Cittadella contro Di Noi, contro il Pescara, facendo il trequarti dietro due punte. Quello sarebbe il suo ruolo migliore, vediamo se si riuscirà ad adattare perché lo ritengo un giocatore probabilmente, tecnicamente probabilmente il giocatore più dotato di questa squadra e quindi sarebbe interessante poterlo sfruttare. Allora, prima di ascoltare Gianluca Colonnello andiamo ad Avellino dove c'è Massimo Iepariello. Allora Massimo, buonasera. Buonasera a te e a tutti i tuoi ospiti. Allora, l'Avellino è andato vicino al primo posto, insomma è una classifica molto corta. Con quale spirito viene a Pescara? So che è in silenzio stampa innanzitutto. Sì, si respira a un clima di forte rabbia e delusione, naturalmente dopo la sconfitta incredibile nel terreno contro la Cervitana, dopo il doppio vantaggio, l'Avellino negli ultimi 15 minuti di essere sciolta come universo e ha lasciato sul campo tre punti pesantissimi dopo aver pregustato il primato e quindi con il grande entusiasmo del proprio pubblico. Clima anche surreale perché la squadra si sta allenando a porte chiuse, lontano da occhi discreti, anche per cercare la serenità giusta dopo le tante critiche e le polemiche che hanno seguito il dopo derby. Sarà anche un Avellino che dovrà riscattare perché ieri ha parlato a nome di tutti il Presidente Walter Taccone nel giorno dell'inaugurazione di un club in provincia, ha detto voglio un Avellino diverso che sappia subito rialzare la testa, chiedendo anche particolarmente scusa per lo spettacolo indecoroso offerto dalla squadra negli ultimi 15 minuti. Chissà che Avellino si vedrà all'Adriatico perché è un Avellino che poteva essere accompagnato anche da tanti diffusi, anche da un grande entusiasmo, questo entusiasmo però è scemato proprio dopo la sconfitta, un derby così atteso. Ecco, dunque come si guarda questa partita? Che cosa ci si aspetta? Un pareggio potrebbe essere gradito? Oppure che tipo di partita farà Avellino secondo te? Ora è difficile capirlo perché con le porte chiuse significa anche andare incontro a una formazione che potrebbe essere anche diversa nelle anche intenzioni di Avellino perché a questo punto nessuno capirà fino all'annuncio delle informazioni speciali sabato pomeriggio quali saranno le scelte di partenza del tecnico Bianco Verde che dovrà rinunciare a Migliorini squalificato e forse lì dietro l'unica scelta scontata potrebbe essere il ritorno di Swagher al centro del reparto arretrato in coppia con Gresic. Potrebbe cambiare volto il centrocampo dove Molina sicuramente sta attraversando un momento di appannamento e potrebbe lasciare il posto a vita qui. Come sull'ina mediana forse potrebbe esserci un campo perché Ticacchio e D'Angelo, il capitano di Lupi, stanno accusando la stanchista. In avanti dovrebbe esserci staffetta tra Asensio e Castaldo con lo spagnolo di proprietà del giuliano che dovrebbe affiancare Ardemagni. Però stiamo parlando sempre di ipotesi perché a questo punto bisognerà davvero aspettare proprio gli ultimi minuti prima del fischio iniziale di Chiffi per capire quale potrebbe essere la formazione scelta da Novellino. Certo rispetto a quello che si è visto nel derby ora è un grande punto interventivo anche capire come la squadra reagirà, se ci sarà davvero la risposta come ha chiesto il presidente Walter Taccone oppure la squadra risenterà del contrapolpo psicologico di aver perso una partita in quel modo balorto con il gol di Milano al 96. Bene, grazie, ti ringraziamo Massimo, alla prossima, buona serata. Immagino l'ambientino veniva stasettimana. Poi in definitiva non è che la posizione in grassifica sia tutt'altro, però è un ambiente molto caldo. stasettimana potevano andare… Sì, però non dipende dal mondo. Le partite così lasciano il segno assolutamente perché vincevano 2 a 0, grandissimo pubblico sentita lì tantissimo, 2 a 0 per il 3 a 2, però non è finita lì la partita perché è successo di tutto e quindi una situazione crea tanto nervosismo, dopo come ha detto c'è il silenzio stampa, secondo me il Pescara dovrebbe approfittare di questa situazione perché quando accadono questi fatti destabilizza un po' tutto e quindi il Pescara deve fare una partita importante far capire subito dall'inizio, dal primo secondo, che vuole vincere la partita perché può essere una partita difficile, però può trarre il Pescara un vantaggio da tutto quello che è accaduto. Credo che sia molto giusto quello che dice Gianluca. Bruna, da una parte un ambiente che diciamo sempre difficile è quello di Pescara, ma poi in effetti se lo paragoniamo ad altri dobbiamo ripensare questa nostra idea, sei d'accordo? Sì, sono d'accordo, basta fare la partita come diceva Gianluca con intelligenza, con precisione ed approfittare, che è brutto dirlo ma lo dico tra virgolette, approfittare del momento psicologico abbastanza giù della squadra avversaria perché veramente è successo di tutto dopo la partita Avellino-Salernitana, quindi si potrebbe approfittare. Sono egoista ma dico che il Pescara ce la può fare. Con questa speranza linea alla pubblicità a fra poco di nuovo in diretta.